Conta le macchine! Sì! Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, dieci! Quante? Contiamo bene! Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, quante! E quante sono? Sì! Quante sono? Quante? Eh! Sì! Contiamo bene! Va bene! Sì! Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Quanto? Quante macchine sono? Sì! Quante macchine sono? Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! E allora quante sono? Quante? Eh! Ma che dici? Quante macchine sono? Quante sono? Dedici! Quante? Dedici! Dedici! No, dedici! Dedici! Sì! Ah! E quante saranno dedici con le dita? Con le dita? Sì! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, fatto! Hai sette dita? Sì, sette dita! Davvero? Io ne ho dieci! Io ne conto una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Quanti sono? Sette dita! Hai sette dita! Bravo! Bravo!